Le progressioni di volume sono la forma di progressione più semplice da gestire, eppure nella maggior parte dei casi quella che si sbaglia più frequentemente. Quanto volume ci serve per crescere e quanto possiamo spingerlo in alto? Più ne mettiamo è meglio è, oppure alcune volte meno è meglio. In questo video vedremo come gestire al meglio il volume in un meso ciclo, una fase del nostro macro ciclo in cui puntiamo proprio su questa variabile. Nello specifico vedremo tre diverse fasi. La prima fase è la fase di preparazione, la seconda fase è la fase di blasting, la terza fase è la fase di download. Devo iniziare però ragazzi come sempre partecipate, cercate di darci una mano in tutti i modi possibili e per voi è veramente semplice, basta un clic qua sul pulsante iscriviti, iscrivetevi al canale non vi perdete altri contenuti e ci date una mano incredibile a crescere. A voi non costa niente ma a noi da una mano importantissima. Detto questo andiamo. Partiamo con alcuni presupposti. Il volume è effettivamente la variabile che più di tutte porta a un miglioramento dei nostri risultati, quindi un adattamento ipertrofico. Più serie faccio, più cresco. Semplice, ma questo con due principali limitazioni. Sono, tu lo so, ci sono, se c'è sempre qualcosa, mi rendo conto. In primis il volume deve essere recuperabile, cioè io ti posso dire stimola il petto, fai push up dalla mattina alla sera e l'hai stimolato a dovere, il problema è che non recuperi. Quindi il volume deve essere tenuto quanto più alto possibile, ma deve essere un volume dal quale riesco a recuperare. Il recupero è sempre il nostro collo di bottiglia. Il secondo punto è che devo mantenermi sempre nella soglia minima di sensibilità. Con questo parametro identifichiamo il volume minimo necessario per creare un adattamento muscolare. Possiamo riassumerlo nel detto prendere il massimo dal minimo, che ci permette di massimizzare i nostri risultati sul lungo periodo, perché se sto sempre al massimo volume recuperabile, di default, mi brucio più facilmente. Mentre se sto sempre al minimo necessario per creare lo stimolo massimo, allora logicamente riesco a spingere di più nel tempo, non mi brucio, eccetera, eccetera. Facciamo un esempio. La caffeina. La conosci, no? Qual è il problema della caffeina? Che quando la vai a prendere, senza entrare nella biochimica, l'ho fatto diversi rili, merito, anzi, seguimi su Instagram, perché parlo di un sacco di cose. Quando prendo la caffeina, a un certo punto ho una suefazione. Allora devo prendere più caffeina, ma a un certo punto ho messo a favore di quella. Allora devo prendere più caffeina, allora ho messo a favore di quella. Hai capito? Allora, che cosa devo fare a un certo punto per non stare a grammi e grammi di caffeina al giorno? Stacco, scarico la caffeina per qualche settimana, il sistema di feedback si resetta e quindi reintroducendo un minimo di caffeina già inizio a sentirla. Ecco, col volume di allenamento è la stessa cosa. Io ho un tot di volume e ho un ottimo stimolo, ma il mio corpo a un certo punto va ad essere a suefatto, allora devo aumentare il volume. E allora il corpo si setta su un volume più alto e rimane a suefatto, allora alzo il volume. Creo quindi una progressione di volume, ma a un certo punto semplicemente non riesco più a recuperare a livello sistemico e onde evitare di stare a 500.000 miliardi di serie a settimana, come peraltro molti preparatori fanno bruciando gli atleti, allora mi conviene scaricare e resensibilizzarmi. Cioè nel tempo si instaura una vera e propria resistenza al volume di allenamento e devo recuperarla con una vera e propria sensibilizzazione. Ecco, un altro esempio poteva essere l'insulina. Devo fare l'esempio con l'insulina, ecco, è la stessa cosa. Se siamo capiti. Ok, quindi in soldoni, questa fase di preparazione, che cosa dobbiamo fare? Stare nel range minimo di adattamento di tutti i distretti muscolari, semplicemente. Immaginiamo che abbiamo fatto una fase di deload, poi ci arriviamo in realtà al contrario, vabbè. Ecco, basta stare alla soglia minima e già il corpo risponde in maniera ottimale. Non che risponde poco, no, risponde al massimo perché è super sensibile al volume. Per l'avanzato questa fase può durare anche soltanto una settimana, è la nostra baseline. Per l'intermedio non offita può durare un paio di settimane, addirittura 3-4. Tra parentesi è l'impostazione che ho su Zeus, il nostro programma di allenamento, quindi vai qua sotto in descrizione, se ti interessa, faccia buttare un occhio. Passiamo alla seconda fase, la fase di blasting. Senti che il nome è bello, blasting, blast, proprio bello come il nome. La fase di blasting prevede banalmente un aumento del volume, giustamente ci dobbiamo progredire, aumentiamo. Nella fase preparatoria infatti iniziamo ad essere a suoi fatti dal volume e quindi dobbiamo rincarare la dose e aumentare gradualmente. Per aumentarlo abbiamo due scelte principali. La prima è quella di aggiungere una serie allenante in più, che è la cosa che normalmente si può fare per i neofiti. Perché? Perché la singola serie allenante non è troppo di impatto, l'intensità non è così alta, i carichi non sono così alti, quindi i neofiti intermedi possono aumentare semplicemente una serie allenante. Una o due in base ai feedback. Poi qua si dovrebbero raccogliere feedback di ogni sessione di allenamento, identificare i muscoli su cui progredire e logicamente andare ad aggiungere un numero di serie necessario che riusciamo a gestire per quei muscoli in specifico. Però il come è molto analitico, servono dei dati, serve una riflessione di feedback. Oppure per l'avanzato, se abbiamo già una baseline di serie abbastanza importanti, cioè sono già abbastanza serie allenanti, aggiungere una serie ulteriore inizia a essere un po' troppo, allora possiamo semplicemente rendere una delle serie allenanti che abbiamo un cluster set. Quindi per esempio ho una pressa, una prima serie da 8-10, una seconda da 12-15, quindi 12-15 RM. Ecco, una terza serie inizia a diventare impegnativa per un avanzato perché potrebbe essere eccessivo l'impatto non solo tendinio legamentoso, articolare, ma anche neurale che riceviamo. In questo caso che cosa fare? La seconda serie, invece di fare uno straight set da 12-15 ripetizioni, con lo stesso carico faccio un cluster set per totalizzare, non so, 20-25-30 target reps. Poi posso usare mille schemi. Il concetto è di avere molte più effective reps. Questo mi permette di avere un lavoro un po' più chirurgico che per l'avanzato mi porta ad ottimizzare il rapporto tra stimolo e recupero. Quindi o aggiungo serie, o rendo le serie che ho dei cluster, posso ovviamente fare entrambi, cioè inizialmente aggiungo serie, poi inizio ad aggiungere semplicemente dei cluster. E questa fase di blasting può essere portata avanti in due maniere, ossia in generale per tutti i distritti muscolari, cosa che normalmente si fa per i neofili all'intermedio, perché riescono a sopportare anche tanto volume, per l'avanzato invece in maniera specifica solo sui distritti carenti. Anzi, molto spesso proprio solo su un distritto carente. Ogni messo ciclo prevede una specializzazione sul singolo distritto muscolare, anche perché l'avanzato normalmente deve iniziare a preoccuparsi di quelle che sono le proporzioni del corpo. Alcuni stretti saranno molto sviluppati, non avranno bisogno di tanto lavoro, altri stretti devono recuperare veramente tanto, cioè deve esserci un discorso di armonia generale del corpo. Ovviamente la domanda che tu mi farai è, ok Ludo, ma io come so qual è il volume minimo da cui partire? Quanto aumentare e qual è il volume massimo? Ecco, non ti preoccupare, perché vedi qua, qua dove sta, dove sta, non c'è. Dov'è? Eccolo, culturismo, mio, mio libro. Questo è il primo volume, lo cito anche il secondo. Non l'ho preso a Rimini perché non sono passati a portarmelo. Vi faccio vedere soltanto il primo. Qua ci sono tutti i range di volume, tutto spiegato in maniera più specifica, più sistemica, comunque voglio farlo un po' meno plateale questa parte. E se ti interessa di video in merito, scrivimelo qua sotto nei commenti. Fondamentalmente ogni distretto muscolare ha un suo volume minimo da cui poter partire fino a un volume massimo che può riuscire a sostenere, ma logicamente sono dati indicativi. La soggettività fa da padrona, quindi tu segnati ogni volta tutto quanto. No, segni tutto. Qua sotto in descrizione il link per il libro. Ok, siamo arrivati all'ultima fase, quella di delode. Quando è che si fa il delode? Quando inizi ad aumentare e aumentare il volume, a un certo punto arrivi al punto di raggiungere un overreaching e la devi scaricare, quindi conviene fare un delode. Il delode ovviamente ha la funzione di recuperare sensibilità allo stimolo, quindi è una fase essenziale per tutto quello che viene dopo. Dobbiamo soltanto sovracompensare, perché facendo quell'una o due settimane di delode, tutto quello che faremo dopo sarà molto più impattante. Ma non solo, perché poi l'altro obiettivo del delode è quello di sovracompensare. Una volta che ho dato un segnale forte di stimolo, devo anche lasciare un paio di settimane affinché il muscolo riesca a crescere, il sistema recuperi c'è una forte, fortissima sovracompensazione. Questo è tutto ragazzi, spero di avervi dato degli spunti interessanti. Qualsiasi commento qua sotto in descrizione, ricordatevi di visitare tutte le nostre pagine, supportarci al massimo e noi ci vediamo al prossimo video.